se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, buongiorno scusatemi per il mio tono di voce ma stamattina ho avuto uno dei risvegli più brutti che un umano può avere avevo la gattina che non stava bene e mi è mancata tra le braccia quindi iniziamo con i requisiti servirà un veicolo personale ragazzi ci servirà il com e un amico che ci dà una mano a questo punto ci servirà l'attico di lusso con il garage e all'interno ragazzi dovete avere la IC con almeno un veicolo in più a questo punto vi consiglio di avere il night in questa posizione comunque sia requisito servirà il night e lo speedo custom che ha all'interno che è gratis ragazzi io vi porto questa versione che per me è la migliore a questo punto iniziamo con il glitch saliamo sul nostro veicolo personale ragazzi e facciamo salire il nostro amico sopra a questo punto entriamo dentro il parcheggio del casino quindi non il nostro garage ragazzi ma il parcheggio del casino una volta all'interno facciamo salire il nostro amico sopra il veicolo ragazzi e a questo punto controlliamo di aver messo l'accesso ai veicoli su passeggeri perché sennò il glitch non funziona raga a questo punto possiamo uscire dal garage dell'attico di lusso ragazzi e andare al night io vi taglio la clip ragazzi e ci vediamo direttamente al night a questo punto ragazzi una volta arrivati al night entrate nel piano B1 che è quello dello speedo io vi porto la versione con lo speedo ragazzi perché secondo me è più conveniente perché lo speedo ve lo regala stesso Rockstar quando comprate il night invece la versione col terabyte dovete comprarvi anche il terabyte quindi a questo punto salite sullo speedo schiacciate freccia destra ragazzi e vi frizzerete per sfrizzarvi semplicemente menu di pausa o se giocate da PS touchpad e uscite dal night e riandate nell'attico di lusso ragazzi dal casino mi raccomando ragazzi come tutti i soliti glitch di questo tipo dovete usare veicoli non personali quindi tipo Buzzard, Sparrow o veicoli del civile a questo punto io vi consiglio anche di distruggere lo Sparrow così ogni volta che uscite lo richiamate ed è sempre nuovo perché sto Sparrow si rompe come niente ragazzi quindi a questo punto entriamo nel garage dell'attico di lusso non nel parcheggio ragazzi quindi entriamo nel nostro garage e una volta all'interno andiamo a prendere la AC che ci servirà da duplicare e la mettiamo in questa posizione ragazzi quindi a questo punto una volta messa la AC dovremo fare la stessa cosa con il secondo veicolo che vi ho detto di inserire all'interno esso ci servirà per coprire la portiera in modo da teletrasportarci all'interno della ISSI ragazzi come potete vedere infatti io appena ho messo il veicolo mi metto in questo punto schiaccio triangolo Y e controllo simile teletrasporta a questo punto mi metto davanti la serranda e schiaccio Y e A assieme ragazzi se uscite con il veicolo vuol dire che avete fatto la prima duplicazione ovviamente chi gioca alla PS ragazzi dovrà fare triangolo e X quindi a questo punto una volta fuori andiamo a richiedere il nostro veicolo da sacrificare io andrò a cercare una LG nel garage io vi consiglio di usare comunque sia auto gratis che non andate a pagare quindi una volta che trovate il veicolo da sacrificare ragazzi lo richiedete e aspettate 10 secondi dal momento che l'avete richiesto non aspettate di più perché tanto dall'aggiornamento il meccanico arriva anche prima quindi in teoria potete aspettare anche 5 secondi ma con 10 ragazzi il grice siamo sicuri che funziona a questo punto quando sono passati i 10 secondi gli diciamo al nostro amico che è ancora sulla moto ragazzi di scendere dalla moto e a quel punto a noi cambierà la targa della ISI ragazzi come vedete in clip adesso non ci resta altro che andare a salvare il veicolo nel com semplicemente entrandoci quindi a questo punto avremmo fatto la duplicazione e salvata ragazzi io vi consiglio per continuare di spostarla e metterla direttamente nel garage del vostro casino dopo di che vi richiedete il veicolo personale una moto una macchina è uguale riandate dentro il parcheggio col vostro amico lui rimane là e riniziate il giro ragazzi una volta che ci prendete la mano mettete il night lì il glitch è veloce quindi a questo punto ragazzi mi scuso se ora per questi giorni rallentano magari a pubblicare perché sono un po' disturbato dalla situazione della ciò che mi è successo stamattina ragazzi non so se vi porterò l'aggiornamento settimanale spero che mi capiate ragazzi è bella alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti